Ben ritrovati, ben ritrovati a Passione Biancorossa la trasmissione di video 33 dedicata all'FC Sud Tirol Buonasera, buonasera a tutti voi e buonasera al nostro graditissimo ospite di quest'oggi il centrocampista Biancorosso Emanuele Gatto Ciao Ema, ben trovato nei nostri studi, ben ritrovato Buonasera, buonasera a tutti Partiamo dall'attualità, partiamo dai numeri oggettivi la matematica del resto non è un'opinione non guardiamo troppo la grado attuale ma guardiamo i numeri, 26 gare, 20 vittorie, 6 pareggi 20 clean sheet, 36 gol fatti, 6 subiti insomma numeri importanti Sì, è un percorso importante che stiamo facendo è fondamentale continuare così e concludere in bellezza in queste ultime giornate E a proposito di numeri, andiamo a vedere i risultati degli ultimi due turni e la classifica 26esima giornata, settima di ritorno Albinolef, Triestina 1 a 1, Pro Sesto, Feralpi, Salò 0 a 1, Leco, Fiorenzola 3 a 1 Legnago, Gianalminio 0 a 0, Juventus, San Deo 23, Mantua 3 a 0 Saregno, Padova 1 a 2, Piacenza, Pergolettese 3 a 0 Suttiro, Pro Vercelli 1 a 0, Juventus, Verona, Pro Patria 0 a 2, Trento, Renate 0 a 2 Nella 27esima giornata, ottava di ritorno Nel turno infrasettimanale, Gianalminio Suttirolo 0 a 2 Renati Albinolef 0 a 2 Feralpi, Salò, Pro Vercelli 0 a 3 Fiorenzola, Trento 1 a 2 Mantua, Saregno 3 a 1 Padova, Lecco 2 a 1 Pergolettese, Legnago 1 a 1 Pro Patria, Pro Sesto 0 a 3 Triestina, Juventus, Verona 2 a 1 Nel tardo pomeriggio di oggi, Juventus, San Deo 23, Piacenza Per una classifica che vede Il Sud, Tirolo in testa a quota 66 Padova 58, Renate Ferralbi 49, Triestina 38, Pro Vercelli 36 Juventus, San Deo 23, Lecco e Piacenza 35 Mantua e Albinolef 31, Trento 30 Pro Patria, Pergolettese, Viotus e Verona 27 Fiorenzola 26, Serigno 25, Gianalminio e Pro Sesto 23, Legnago 21 Emanuele, partiamo da domenica Che gara è stata a tuo giudizio Quella con la Pro Vercelli Che ti ha visto tra l'altro Spettatore illustre a scontare la squalifica Per la somma di ammunizioni Una partenza bruciante Diverse occasioni create E poi nella ripresa L'abilità di riuscire a trovare Il colpo vincente con Matteo Rover È stata una partita fatta molto bene Contro una squadra forte come la Pro Vercelli Siamo stati bravi a rimanere in partita E non disunirci Nonostante non avessimo trovato il gol E aver creato delle ottime palle gol E siamo stati premiati alla fine Con questo bel gol di Matteo È bene così, avanti così Andiamo a vedere ora le tini salienti Della partita di domenica scorsa Al Druso con la Pro Vercelli Nel servizio realizzato dalla nostra redazione Quello con la Pro Vercelli Al Druso sembrava un match Destinato al pareggio Ma poi ci ha pensato Matteo Rover A sbloccare il risultato 1-0 per l'FC Sud Tirol Sempre più capolista Del girone A di Serie C Diciannovesima vittoria Che si aggiunge ai sei pareggi Sconfitte 0 I numeri parlano da soli Mancano 13 partite alla fine del campionato Quindi un potenziale di 39 punti a disposizione L'FC Sud Tirol vanta di un tesoretto prezioso Da 8 punti sulla seconda in classifica Il Padova Testa e cuore settimana dopo settimana Verso un sogno che non si dice a voce alta Ma diventa sempre più vicino Sembrava una di quelle gare stregate Quelle gare destinate a non sbloccarsi mai Invece siete stati bravi, lucidi E anche spietati al momento giusto Sì, sono partite che se non sblocchi I rischi di lasciare dei punti Dei punti importanti Invece noi siamo stati bravi Abbiamo continuato a fare il nostro gioco A fare le nostre cose A rimanere in partita anche mentalmente E siamo stati premiati Con questo gran gol E dopo aver visto le fasi salienti della partita Andiamo a sentire le opinioni a caldo Dei protagonisti e di Misteri Avocic È quello che noi cerchiamo di fare Cioè quindi concentrarsi sul gioco Migliorarsi perché possiamo migliorarsi molto Ma anche nel secondo tempo Comunque abbiamo fatto la partita giusta Che andava fatta E quindi nella totalità È stata fatta un'ottima partita Faccio complimenti ai ragazzi E da domani pensiamo all'altro Cioè noi dobbiamo concentrarsi A provare a fare al meglio nel gioco E questo è stato fatto E quindi anche nel momento in cui Magari sbagli qualche occasione Lo accetti perché fa parte del gioco Ma dopo comunque abbiamo continuato a giocare con equilibrio A ricreare le nostre occasioni E alla fine l'abbiamo vinta Ma sono partite che puoi anche pareggiare Ma non cambia niente nella sostanza Perché è stata fatta una partita eccellente Faccio complimenti soprattutto ai tre nuovi arrivati Che hanno fatto una partita eccellente Sono molto contento di loro Quindi è nella totalità che siamo stati bravi Quando Dani è rientrato lì sulla nostra sinistra Io mi faccio sempre trovare sul secondo pallo Lui ha messo una gran palla Io senza pensarsi ho visto che era bella E ho calciato al volo Fortunatamente è andato dentro E sono molto contento di questo gol Che ha portato questi tre punti alla squadra È arrivato il momento giusto Perché era una partita che le occasioni abbiamo avute Mancava solo buttarla dentro E sono riuscito a buttarla dentro Grazie anche ai miei compagni E sono, se siamo, molto contenti di questa vittoria Partita difficile per loro Venivano da tanti risultati positivi E sono una squadra forte Con giocatori importanti E noi abbiamo fatto, come hai detto a te Un primo tempo di tanta tanta roba Complimenti veramente a tutti Perché abbiamo interpretato come ce l'ha chiesto al Mist L'abbiamo preparata bene E ci è mancato solo il gol Dovevo imparare appunto queste partite così importanti Ma in tutte le partite a sbloccarla subito Con quelle poche occasioni che abbiamo Dobbiamo riuscire a sbloccarla Oggi ci abbiamo messo purtroppo troppo E poi è stato bravissimo Mate che ha fatto un gol pazzesco Però dobbiamo riuscire a sbloccare la partita meglio Perché abbiamo meritato di portarla in vantaggio il primo tempo E quindi dobbiamo migliorare sotto quel punto di vista Però penso che grossomodo abbiamo meritato noi questa partita E sono contento per questi tre punti importanti Emanuele per quanto ti riguarda personalmente Come consideri la tua stagione in corso La terza in bianco rosso Possiamo dire di elevato spessore Sì dai direi positiva Per quello che stiamo facendo come squadra Come gruppo E di conseguenza anche io mi ritengo soddisfatto Di come sta andando la stagione E mi aggancio al tuo concetto di gruppo In un contesto quindi di assoluto valore In una squadra nel vero senso del termine In cui ciascuno si fa trovare pronto al momento giusto E soprattutto in qualsiasi posizione Sì dai d'inizio anno noi ce lo diciamo Sembrano frasi fatte ma veramente il gruppo è la nostra forza E penso che si sia visto in varie occasioni E chi è impegnato di più, di meno, poco, tanto Ha sempre dato il massimo E ha sempre fatto ottime prestazioni in qualsiasi momento E questa è la nostra forza E deve essere così da qui alla fine Ci fermiamo ora per qualche istante Restate con noi per la seconda parte di Passione Biancorossa E questa è la nostra forza Una finestra internorma ha molte differenze Ti offre più isolamento e risparmio energetico Ti garantisce più sicurezza Ti permette più scelta di stili Per questo ce ne sono 26 milioni nel mondo Sfrutta l'EcoVolus con Internet Vedrai la differenza Ciao sono Marion Entra con me nella banca del futuro Qui sei tu a personalizzare le funzioni E a selezionare proposte e servizi su misura per te Puoi acquistare e sottoscrivere i prodotti direttamente online Per molte operazioni bancarie Basta un clic E se vuoi I bonifici sono instantanei Tutto questo è on L'Online Banking di Sparkasse Con Sparkasse sei always on 200 Jahre Tirola Versicherung Feier und Flamme für die Frauen 200 Jahre feiern wir fraulich Mit 200.000 Euro für Kinder- und Frauenprojekte Informationen zur Teilnahme unter frautirola.info Jetzt einreichen Sicher sind wir weiblich Die Tirola Versicherung GS Group È tra le poche imprese della provincia Ad avere requisiti richiesti per la sanificazione Da agenti patogeni e virus Covid-19 I nostri atomizzatori di perossido di idrogeno Ci permettono in breve tempo E ad un costo contenuto Di ottenere un risultato Che rispetta tutti i protocolli sanitari Non esitate a contattarci Per rendere i vostri ambienti salubri e sanificati GS Group Bolzano Via Galilei 10H www.globalservice.bz.it E rieccoci in studio con Emanuele Gatto Dalla prova di domenica con la prova di Arcelli A quella di mercoledì sul campo di Gorgonzola Tra l'altro un campo in condizioni particolari In casa della Gianna Erminio Proseguendo un tour de force Che possiamo considerare quasi spaventoso Eh sì 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 dai Però sappiamo che è così Quindi lo affrontiamo nel miglior modo possibile E anche ieri è stata fatta una Una grande partita E i tre punti ci riteniamo stretti E andiamo a vedere le immagini salienti Della gara di Gorgonzola con la Gianna Erminio Nel servizio della redazione Allo stadio Città di Gorgonzola La capolista del Gione A di Serie C Eftesutiro l'affrontava la Gianna Erminio Terz'ultima in classifica E contro la quale all'andata In ottobre Aldruso aveva pareggiato a reti bianche Biancorossi in campo con il 4-3-2-1 In attacco Casiraghi e Rover dietro a Odogvu Il team altoatesino si fa subito vivo Dalle parti del portiere avversario Zanellati Prima con Odogvu Poi con Malomo La cui inzuccata su corner Finisce alta sopra la traversa Al 22esimo Corti Impensierisce neanche troppo Poluzzi Una piccola parentesi Nel sostanziale predominio assoluto degli ospiti Che poco dopo la mezz'ora Vanno vicini al gol con Rover Gol che arriva al 38esimo Punizione di Casiraghi dall'angolo sinistro Dell'area di rigore La barriera respinge il pallone Che capita sui piedi di Tait Il numero 21 è chirurgico E batte Zanellati con un tiro preciso 1-0 all'intervallo La ripresa si apre con il Stuttural Ancora avanti E con un bel tiro al volo di Rover La sequenza di occasioni Prosegue poi con altre numerose conclusioni Del reparto offensivo del Stuttural Poi al 74esimo arriva il raddoppio Un gioiello di Decolle Che se ne va in percussione E lascia partire un tiro Che si insacca alla destra di Zanellati Prima della fine Odogvu sfiora il Tris Finisce 2-0 E per l'Efze Suttural La corsa verso un sogno Tutto ora innominabile Prosegue a ritmo spedito Era importante sbloccarla con la Gianna Arminio Sbloccarla al momento giusto Il momento giusto è arrivato prima del riposo Sì, è stato fondamentale Perché magari sono squadre che tendono a chiudersi Perché ogni punto fa la differenza Perché ormai nel giorno di ritorno Tutti si giocano qualcosa Dalla salvezza a una posizione playoff E quindi siamo stati bravi a crederci A continuare a spingere E a sbloccarla E bravi anche a chiuderla Dopo una serie di otte occasioni Mancate davvero di pochissimo Sì, siamo stati bravi a chiuderla E forse avremmo potuto farlo prima Però non è un problema Siamo riusciti dopo Quindi bene così Finché creiamo tante occasioni da gol Penso che sia sempre un segnale positivo E allora andiamo nel post Partita di Gorgonzola Sentiamo le opinioni a caldo Raccolte dopo il successo con la Gianna Erminio La temevo questa partita qua Per tutto quello che ho detto prima della partita No, eravamo contro un avversario organizzato Allenato bene Su un campo che ti toglie il ritmo di gioco No, e quindi può diventare complicata nelle dinamiche Noi penso che oggi Ha fatto la partita giusta I ragazzi sono stati veramente bravi Non è né semplice né scontato Siamo partiti bene Abbiamo avuto due o tre situazioni importanti Poi la partita si è un po' equilibrata Gianna ha provato anche a essere pericoloso C'era un momento di stallo Averla sbloccata in un momento chiave e delicato E' stato importante Poi abbiamo fatto, secondo me, un secondo tempo Anche di grande personalità, di temperamento e di qualità Su un campo non facile E penso che la vittoria alla fine è meritata No, è andata bene E' stata una vittoria sofferta ma meritata Perché avevamo davanti un avversario che comunque faceva delle ripartenze Il loro punto forte Su un campo molto, molto brutto Però è stato importante il mio gol Per arrivare al 2-0 Avere un po' più di tranquillità Nel gestire la partita E quindi sono molto contento Abbiamo fatto due gol, secondo me, nei momenti migliori di una partita E ci ha spianato la strada Perché dopo siamo stati bravi a gestirla Anche negli ultimi, nell'ultima mezz'ora, negli ultimi 25 minuti E' andata bene così Siamo molto contenti Il calendario prosegue a ritmi sostenuti Emanuele non c'è tempo di voltarsi indietro E' già ora di guardare alla partita di domenica prossima Aldruso con la Propatria Un altro avversario sicuramente importante Un'altra partita da approcciare nel modo giusto Anche in questo caso Memori di quello che è accaduto all'andata A Bustolassezio, allo Speroni, terminò 0-0 Tra l'altro con qualche recriminazione Con un palo interno, diciamo così, nella ripresa E palla carambolata in campo Sì, è un'altra partita importante Dobbiamo prepararci al meglio Affrontarla al meglio Perché sarà fondamentale portare a casa i tre punti Un calendario fittissimo Quindi la necessità di stare sul pezzo Sia dal punto di vista tecnico, tattico Ma soprattutto mentale Sì, l'aspetto mentale è fondamentale Giocando ogni tre giorni si spendono tanta energia E di conseguenza essere al meglio mentalmente È fondamentale Un campionato che fin qui cosa ha detto secondo te? Campionato equilibrato Direi che tolti noi e Padova Che forse adesso abbiamo preso un po' il largo Dietro è molto livellato Molto equilibrato direi anche perché Come vediamo si può perdere punti con tutti Da un pareggio a una sconfitta Quindi è importante per noi rimanere concentrati E ci sono due file aperti Quello del campionato e quello della Coppa Italia Sì, abbiamo anche la Coppa Italia Non ce ne scordiamo E a breve avremo il ritorno E poi un'eventuale doppia finale Che sicuramente vorremmo affrontare al meglio Anche se adesso dobbiamo solamente concentrarci Sulla Propatria È giusto dire Diciamo ormai in conclusione Che il processo di crescita del Sud Tirol È costante Ed è in costante ascesa Sì Da inizio anno Noi ce lo siamo detti Che il nostro era un percorso Dove c'erano molte cose da migliorare E molte cose sono state migliorate Ce ne sono ancora altre Che possiamo e dobbiamo migliorare Abbiamo queste 12 partite per farlo E dobbiamo continuare così Possiamo dire che una sorta di valore aggiunto Preziosissimo Tra l'altro è quello di curare In maniera meticolosa Tutti i dettagli Sì E giocando ogni tre giorni Se vuoi fare un campionato importante È fondamentale farlo Noi lo stiamo facendo E l'importante è non lasciare nulla al caso E lavorare sempre come stiamo facendo Grazie Grazie di cuore ad Emanuele Gatto Il diciannovesimo numero stagionale Di Passione Biancorossa termina qui A tutti voi grazie per la cortese Attenzione L'appuntamento è come sempre Per la prossima settimana Alla stessa ora Buon proseguimento di serata Grazie Per la prossima settimana Per la prossima settimana Grazie a tutti Grazie a tutti.